Buonasera e attoressa e benvenuti in questo nuovo video In questo video vi farò vedere tutte le cose che ho comprato alla Maiors Ho comprato un sacco di cose, tutte per andare in gara e per gli allenamenti Visto che adesso finalmente rinizieranno le gare Quindi ho dovuto fare un po' di shopping Ah, sei andata a fare un po' di shopping? Sì, sono andata a fare un po' di shopping e ho comprato alcune cose per le gare E altre cose per montare il maneggio normalmente Iniziamo subito allora Adesso vi faccio vedere come è andata quando sono andata alla Maiors Bello a tutti ragazzi, oggi porterò con me alla Maiors Alla Maiors, andiamo? Andiamo E allora andiamo, vai! Siamo arrivati alla Maiors e adesso andiamo a fare un po' di shopping Ciao Silvia, vieni che ti faccio vedere le novità che abbiamo Ecco qua Questo, devo prendere Questo, devo prendere Questa, tutta l'armica non ci deve essere un qualcosa perché è una donna Da va? Sì E' vero? Da Ciao Silvia, vieni che ti faccio vedere le novità 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 che ti faccio vedere le novit Allora, abbiamo preso il balsamo di broccoli, poi questo che è, come ti capisco, è un coso, non so come si chiama, è tipo villate, ma andiamo a vedere la linea delle, qui c'hanno un sacco di cose nuove, vediamo? Sì, ci stiamo provando, che novità abbiamo, cioè, vedo che, vedo so much, abbiamo sempre per più cose, Maiors, Maiors, abbiamo i nuovi leggings, le nuove polo da concorso, a breve arriveranno le nuove t-shirt, felpe e tante altre novità per il mare, per l'estate, per ora, ci prepariamo per andare in vacanza allora con la marchio Maiors, sì, esatto, super. Allora, prenderò questa maglietta della Maiors, vediamo? Che bella, prova a aprirla, vediamo come ti sta? Ok, vedi loro. Il pezzo è un S. Allora, la ripiego. Ciao Alessia, devo prendere delle magliette. Ciao Silvia, guarda, puoi scegliere tra queste che abbiamo, che sono molto belle, le abbiamo sia in bianco che in blu. Questa è una delle mie preferite? Questa, oppure questa qua è molto bella, anche in blu. Vediamo. Quella paniera italiana, bellissima. Bella anche, bella. Quella che hai in manotea, anche molto bella. A vedere. Eh, eh, dubbio è, quale prendiamo delle tre? Scelta difficile. Scelta difficile. Ragazzi, quale prendiamo delle tre? Scelta difficile. Non ci credo neanche, guarda. Ragazzi, è deciso, le prendo tutte e tre. Vai, vai a trovare. È bellissima. Le prenderò anche le altre, poi dovrò prendere dei pantaloni. Sono pronto per andare a montare. Ragazzi, guardate che bello. Un è più bello dell'altro. Guardate che bello. Chissà quali colori preferiscono. Guardate che bello. adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato. Allora, per prima cosa ho comprato queste tre t-shirt della Maiors, bellissime. Questa è la prima, molto bella, con la bandiera dell'Italia. e la scritta Maiors. Poi questa maglietta bianca, molto bella. E poi questa, con la scritta Maiors, con la bandiera Italia. Qua c'è anche il brilantino? Sì, in tutti ci sono i brilantini. Super. Poi anche questa polo della Maiors, col tessuto tecnico. Bella. Molto bella. Molto bella. Con qua il loghino della Maiors è tutto glitterato. E qua scritta passione per l'equitazione e invece dietro c'è il cavallo in grande. wow. Con Maiors. Bellissima questa. Molto bella. L'avevo vista. Bellissima. Sì. Ho preso un sacco di robe e ho preso anche dei pantaloni bellissimi, super comodi. e allora questi pantaloni sempre della Maiors bianchi, appunto per le gare, che io ce ne avevo già un altro paio, però sono veramente comodi, mi trovo molto bene. così, molto semplice. Con la scritta Maiors. Con la scritta Maiors e il grip con anche il cavallino della Maiors. Molto bello. Io adoro questi pantaloni. Poi ci sono dei nuovi pantaloni che ha fatto la Maiors che sono in stile leggings. Questi sono veramente stracomodi. Sempre con il grip. E li ho presi grigi e rossi. E poi ho preso una coreana. Nuova. Con la scritta Maiors con i brillantini. E dietro il loghino. bellissimo. Poi ho preso, visto che mi mancavano un po' di calze, ho preso tre paia di calze della Maiors. le ho preso. Un paio con la striscia Italia, con la scritta Maiors. Poi ne ho presa un altro paio grigio, con sempre la bandiera Maiors. e poi queste calze blu glitterate. Molto semplici. blu glitterate, con la scritta Maiors glitterato. E infatti, poi ho preso, aspettate, poi ho preso questi guanti blu con il bordino con tutta la scritta Maiors. Vi ho fatto vedere tutte le cose che ho comprato. Se vi è piaciuto questo video, mettete un pollicione in su ed iscrivetevi al canale e guardate altri video. Ciao! 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 Ciao!